È morto l'attore romano Roberto Brunetti, da sempre conosciuto con il soprannome di Erpatata. Il 55enne è stato trovato dalla polizia sdraiato, soppino, sul letto, coperto da un lenzuolo, nella sua casa di Via Arduino, nei pressi di Piazza Bologna. Nessun segno di violenza sul suo corpo. Ad allertare le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco è stata la compagna dell'attore dopo ore di silenzio. Nell'appartamento c'erano tracce di hashish e cocaina. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sul decesso, non è escluso che possa essere legato all'uso di droga. Per l'attore romano il successo è arrivato con le commedie degli anni 90, esordio nel 1997 con fuochi d'artificio di Leonardo Piraccioni. Ha recitato in film come Paparazzi, Commedia Sexy, Il ritorno del Monnezza, volto del cinema, ma anche delle serie TV come Distretto di Polizia e Un ciclone in famiglia. Poi, nel 2005, dopo dieci anni di lontananza dal grande schermo, ecco arrivare il ruolo drammatico in Romanzo criminale di Michele Placido, nei panni di Aldo Buffoni. Per 16 anni è stato compagno dei Moni Cascattini, scomparsa nel 2015. Aveva anche aperto una pescheria, poi fallita. Nel 2019 aveva fatto un appello per tornare a lavorare sul set. Vivo con il reddito di cittadinanza, aiutatemi, aveva rivelato. Nel suo passato era entrata la tossicodipendenza. Nel 2017 era stato anche arrestato per detenzione di stupefacenti.